E vediamo col Presidente del Comitato Provinciale quali sono i numeri delle bocce di questa provincia, Torino. Sì, Torino, noi come le dico, a oggigiorno abbiamo 60 società e tesserati ne abbiamo 2000-2002, così. Sì, devo dire che nel 2017 facilmente, cioè quasi sicuro aumenteremo 3 o 4 società, società che una volta erano già tesserate e che adesso vogliono rientrare nella federazione delle bocce. Una provincia che ha nel volo il suo punto di forza, che però ha anche una piccola parte di petanque. Vogliamo vedere un attimo come va il movimento in queste due discipline? No, nel volo diciamo che andiamo abbastanza bene, purtroppo manca un po' il ricambio perché giovani ce n'è sempre di meno. Anche se andiamo nelle scuole e portiamo i ragazzini delle scuole nelle palestre a provare a giocare alle bocce, però poi dopo viene difficile farle incominciare proprio l'attività. Andiamo su Torino-Città. Il movimento come si comporta? Quanti centri ci sono di petanche e di volo? No, nella società della petanca ce ne sono cinque, in Torino città proprio, perché c'è due lì in piazza d'armi, c'è il Rossini che fa tre, poi c'è il Ponchielle che fa quattro e poi c'è appena fuori che c'è Trofarello che fa petanca, ci sono cinque. E invece volo? E volo ce ne sono cinquantacinque più le cinque della petanca. Andiamo a conoscere una delle squadre che sarà impegnata presto nel campionato di volo con il suo allenatore. Il nome della squadra e quali aspettative avete per questo campionato? La nostra bocciofila borgonese è una squadra nata in Serie A solo tre anni fa, comunque abbiamo già avuto due traguardi, andare all'Oano, arrivare terzi due anni di fila, per noi è una bella soddisfazione. E quest'anno abbiamo ancora forza, rinforzato un pelino, ma tutte le squadre sono rinforzate. Abbiamo preso un altro sloveno in più, il Tonej, un campione mondiale di PTA. Ariaudo Flavio che arriva dal Gaglianico, anche un bravo giocatore. Oltre ai nostri Matteo Mana che è il nostro gioiellino al diciottenne, abbiamo Koze che è un altro molto forte della Slovenia. Abbiamo altri due sloveni, uno corre Anze con il nostro Matteo Mana, poi abbiamo Scassa, Luca, Capello, Cavallo. La bella squadra, sì. Quindi avete delle buone aspettative. Vediamo invece di vedere le serie minori, le ragazze e i giovani. Allora, anche se è difficile reperire tanti giovani, noi abbiamo comunque una rappresentanza in Under 15, che quest'anno ha vinto anche il campione di società di Under 15, appena adesso ad Aosta. Under 18, vediamo di Matteo Mana e Giaretti, quindi abbiamo vinto anche abbastanza l'anno scorso. Quest'anno abbiamo solo più un Under 18, bisogna cercare qualcosa per aiutarlo, averne qualcuno in più. Abbiamo preso le donne, quest'anno faremo un campione di società di donne a un alto livello, di A, abbiamo tutte ragazze giovani, quindi dovremmo fare anche lì, speriamo, bella figura. Poi abbiamo, come tutti, la C, la D, certo, noi tutte le categorie le rispettiamo, le facciamo giocare, facciamo di tutto. Oggi per la Montatese, ma la sua squadra è lo Zerbio, abbiamo visto alcune sue giocate, innanzitutto da dove è nata la sua passione per il volo? È nata grazie a mio fratello, andavo sempre a vedere le sue gare da piccola, lui ha otto anni più di meno, io ho sempre seguito le sue gare, è iniziato a piacermi anche a me, allora ho iniziato a giocare anch'io. Lei è giovanissima ed è una delle promesse di questo gioco, sarà convocata presto ai campionati del mondo, è così? Sì, i campionati in Marocco saranno dall'1 all'8 di ottobre. Con quali aspettative lei va a giocarsi questo mondiale? Mi sono allenata parecchio e l'obiettivo è quello di cercare di far bene, dipendentemente da quello che fanno le altre, per solo cercare di far bene. Come superisce all'esperienza che ovviamente le manca, lei si confronta con giocatrici che hanno qualche anno in più spesso, come superisce a questa differenza d'età con la volontà, la voglia, quale qualità usa? Sì, hanno tante esperienze in più di me, però comunque mi faccio anch'io tante esperienze a giocare con loro, quindi è meglio giocare con persone che hanno più esperienza. Lei riduce dall'argento conquistato agli europei lo scorso anno e quindi ai mondiali le aspettative sono comunque buone? Sì, speriamo comunque di arrivare sul podio e giocarci qualcosa in più se è possibile, ai mondiali sarà più difficile di quello che è stato agli europei, però ci proviamo. Vuole consigliare questo gioco ai suoi coetanei, perché giocare al volo? Ma perché comunque è visto da tanti come un gioco, ma in realtà è proprio uno sport, perché dietro c'è tanto allenamento che la gente spesso non vede, soprattutto anche nel tradizionale, poi soprattutto nelle prove di corsa c'è tanto dietro. Quindi vi siete aggiudicati questa gara e vuole raccontarci le fasi principali, come siete arrivate alla vittoria? Ci sarebbe tanto da dire perché dovevamo perdere la prima partita, ad essere sinceri, poi con l'ultima boccia fortunata siamo riusciti a uscirne. Poi la semifinale, soprattutto per colpa mia, siamo andati quasi alla sconfitta, perdevamo 10-1 e poi gli avversari ci hanno dato una bella mano, non ci siamo ripresi, ne siamo usciti, con dei bei numeri del mio compagno migliore e la finale forse sono mancati un po' gli avversari. Tra poco le premiazioni, ma vogliamo ricordare una cosa, lei è un esempio di giocatori duttili che passano dal volo alla petanque, campione di petanque ma anche di volo. Come riesce a essere bravo in tutte e due le discipline? Io ho iniziato con la petanque fin da piccolo, poi a 14 anni sono passato a giocare al volo e contemporaneamente frequentavo le due discipline. Ci va un po' di costanza, molta costanza all'allenamento e tanta psicologia direi io e forse un po' di talento perché sono dei modi di giocare differenti, di approcciarsi al gioco differenti, per cui si può fare, ci sono tanti giocatori ultimamente che lo fanno, che passano dal volo alla petanca soprattutto e bisogna adattarsi. Diciamo che il braccio è un po' abituato anche a peso diverso dalla boccia. Sì, il peso è diverso, il diametro è diverso, il movimento è diverso perché la petanca si gioca da fermi, qua si corre, però ci si può ripensare, nel senso bisogna fare uno sforzo e cambiare il modo di pensare perché è un modo diverso, un modo di giocare la boccia è differente, un po' di allenamento si arriva da tutte le parti, allenamento porta ovunque. Un consiglio ai ragazzi per questa disciplina, venite a giocare a boccia, venite a giocare a petanca, venite a giocare a volo? Sì, io direi tutta la vita perché giocavo al calcio, poi sono passato, alle boccia ho sempre giocato, però ho trovato dei buoni ambienti, delle buone persone, il calcio forse in Italia o altri sport comunque sono un po' spinti all'estremo, circolano magari troppi soldi, qua rimaniamo un po' con i piedi per terra, per cui è un ambiente che io consiglio di frequentare vivamente. Una parola anche a chi è arrivato secondo ma ha perso questa finale, due giornate molto lunghe che comunque vi hanno messo in buona evidenza. Certo, abbiamo fatto un'ottima gara secondo me, ad alti livelli, a parte la finale che abbiamo peccato un po' per stanchezza, però abbiamo ottenuto un ottimo risultato per le nostre possibilità. I vincitori infatti hanno detto che alla fine sono calati un po' loro e ci hanno regalato una vittoria, noi siamo stati fortunati all'inizio e alla fine loro sono calati e la vittoria è arrivata. Sì, abbiamo accusato un po' la stanchezza che siamo anche andati a dormire a casa, che ci va due ore andare, due ore tornare, abbiamo accusato poi la fine. Va bene, comunque soddisfazione comunque. Certo, quando si va a giocare gioca per vincere, ma quando si arriva in finale è sempre un ottimo risultato. I prossimi impegni della vostra squadra? Della squadra, adesso andiamo a giocare le gare nazionali di Albisola, di Asti, vogliamo di fare il meglio possibile. Una delle ragazze che andrà ai mondiali, l'abbiamo vista nella cronaca della finale, delle donne, la traversa, e l'occasione buona è per ricordare che i mondiali femminili si avvicinano sempre di più. Come sta andando la preparazione delle ragazze? E' un po' come il movimento delle donne a livello nazionale per le bocce? Come sta andando? Direi che parliamo della traversa giustamente. 15-20 giorni fa c'è stato uno stage a Saluzzo in cui c'erano le 12 migliori giocatrici italiane in preparazione per il futuro camionato del mondo che si terrà fra 15 giorni circa a Casablanca in Marocco. Da questo stage il nostro tecnico Amerio ha fatto le convocazioni. Io vi posso dire le convocazioni a tutta gente veramente di altissimo livello, pur essendo giovanissime. Laggiù avremo le due sorelle terribili, le chiamano, le sorelle Ventorini. La Virginia farà il progressivo, quindi la corsa individuale, mentre invece la Ventorina e la Caterina sarà la nostra portacolori nella prova individuale, tradizionale, individuale, mentre giocherà in coppia insieme alla Veronica Piccoli. La Veronica Piccoli è una new entry nel Giro della Nazionale. Una ragazza che si è presentata con tutti i numeri, che potrà di sicuro portare avanti il nostro vessillo italiano, il tricolore. Nuova, nuovissima anche lei, la Zorini, la Zorini Barbara. Lei farà due prove, la prova del combinato e il tiro di precisione. E diciamo così che è stata, secondo Amerio, una sua, così, ha visto in questa ragazza delle potenzialità grandissime. Potrà ancora molto, molto migliorare, ma attualmente è già a livello mondiale. Per ultimo abbiamo parlato della Traversa, quindi Traversa e Falconieri, tutte e due della Zerbion di Aosta, invece saranno nel cosiddetto tiro staffetta. A detta di molto del pubblico qua, che hanno potuto vedere la Traversa giocare, sono ragazzi che potrebbero benissimo competere con i loro colleghi uomini in questo sport. Sì, d'altronde competono, non ancora molto, perché sono ancora giovanissimo, ogni tanto, ma poco, poco, poco. Anche perché sarebbe come rovinarle, in quanto cambiano, diciamo, le lunghezze dei campi. È tutta una cosa difficile e bisogna andare con gradualità, per non, diciamo così, bruciarle. Alcune di loro, per esempio le sorelle Ventiluini, giocano tranquillamente, già anche in vari campionati, a livello, diciamo, uomo, giocano con i maschi, quindi non c'è nessun problema. Un passo in più di questo sport, possiamo dirlo, no? Rispetto ad altri. Sì, diciamo che un passo molto, io direi molto importante è questo, perché il nostro settore giovanile sta crescendo piano, piano, perché non è facile dire a una ragazza gioca a bocce, sembra sempre una cosa un po' vecchia, retro, invece si sta tornando a capire che il gioco delle bocce, con tutte le prove che ha attualmente, progressivo, il tiro progressivo, la staffetta, la navetta, il combinato, sono prove in cui, diciamo, l'atleta si vede veramente, non solo la giocatrice di bocce, lì viene fuori l'atleta, in quanto ci sono molte, molte ore di preparazione per poter arrivare a dei risultati ottimali. Ciao! 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 Grazie a tutti.